bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo episodio della maullo craft signori più o meno sì sì lo possiamo chiamare maullo craft signori benvenuti in questo nuovo video allora ci siamo abbiamo dietro la nostra torretta che dovremo andare a esplorare non c'è la barca purtroppo quindi poi dovremo andare a cercare un'altra con la barca perché l'obiettivo è tornare a casa con le litra dettosi signori prima di partire lo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suoi genti e per il supporto che date a serie ea canale vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo un appuntamento di appuntamento se l'appuntamento non so con chi abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2.000 iscritti entro la fine dell'anno signori e siamo a buon punto siamo cresciuti negli ultimi nelle ultime settimane ma serve ancora di più il vostro supporto signori basta semplicemente cliccare il pulsante per appunto iscriversi al canale anche lasciare un bel mi piace che fa sempre piacere e se volete anche un bel commentino tattico in cui io sono sempre disposto a rispondere a tutti signori allora detto questo non perdiamoci in chiacchiere io riguardo un pochetto di blocchi che magari possono tornare sempre utili andiamo a esplorare questa prima fortezza e lì già ci sono due mostriciattoli quindi entriamo subito qui dentro perfetto così pure se mo ci colpiscono no no ma l'obiettivo era ma porca ma porca mi la tiri o perfetto dobbiamo metterci qui ok aia delle scatole pure l'enderman ci mancava dove cazzo l'era l'enderman che partenza col botto di questo video allora stiamo calmi un attimino tutti quanti grazie alla tu devi morire male allora devi morire male perfetto signori abbiamo ottenuto i nostri primi due schulker box no il nostro primo che cazzo lo dico schulker box siamo atterrati sì siamo riusciti a tornare giù sì ora mi fate riscendere nuovamente là sotto che c'ho del no ma porca miseria voglio scendere giù mi fate scendere giù devo andare a ammazzare quello di là che ha rotto le scatole pesantemente allora io se non sbaglio lo sto eccolo lì e volevi volevi ma io ti vengo a pescare lo stesso sei qua no si è trasportato da qualche altra parte allora noi andiamo a ammazzare quelli che sono vicino alla porta recuperiamo queste enderper grazie allora non hai non hai che rovere le scatole ok 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 a ste palle sarebbe grazioso se ste palle volanti colpiscono un enderman mi piacerebbe vederlo volare via un enderman allora prossima intanto faccio una schulker box sì abbiamo già due schulker shell si una schulker shell gusto di schulker se abbiamo due gusci di sul casine quindi una schulker box lo possiamo fare tranquillamente è questa già è tanta roba ma da qua si inizia a fare tutto il parkour brutto che però dobbiamo far bene perché sennò ci stiamo una vita e io come ci arrivo la se se tu mi metti i blocchi qua in testa io lì come ci arrivo brutta esimia testa di kaiser bene ok ora riesco a salire di qui sì ok ok signori stiamo abbiamo trovato questa fortezza e questa mo ci andiamo a esplorare in modo tale da quanto meno infatti vedete già uno schulker box lo possiamo fare e questa già è tanta roba ci hanno fatto un attimino sclerare ora che mi serve che mi colpiscono non mi colpisce nessuno mannaggia a loro e alle loro famiglie per non dire altro riusciamo a salire di qui sì allora di qua già va un pochino indietro ok andiamo di qua velocemente veloce veloce rapido 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 ok siamo dentro se devi morire male muori 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 ok altro altro recuperato e non c'è un cacchio come è possibile che non c'è niente signori qui sopra non ci sta nulla non ci sta proprio nulla recuperiamo poco di queste la presa sì ok non so di precisa cosa ci possono servire ma tu recuperale e qualcosa che non abbiamo è che mannaggia a voi e chi non ve lo dice pure va bene e noi facciamo un attacco dall'alto signori un attacco dall'alto loro mi mandano su e le attacco d'acqua ancora no no ma io dico no sì vabbè 888 mila ok ma quando meno siamo bloccati dal tetto quando ne abbiamo ne abbiamo tre dovremmo riuscire a trovare il prende questa è una cosa inutile ok praticamente inutile signori c'è questa qua che siamo andati a conquistare di là non c'è nient'altro non so dove sia l'altro l'altro esserino ma neanche una cassa abbiamo trovato del tipo proprio c'è un altro esserino che ci sta sparando e che non so dove sia di preciso e sinceramente non me ne può sbattere altamente nulla ah guarda dov'è maledetto bastardo devi morire devi morire devi morire dammi lo shulker dammi lo shulker me l'ha dato non mi ha dato da meno lo shulker bastardo fino alla fine ok va bene e niente signori e che vi devo dire la prima la prima fortezza l'abbiamo trovata esplorata e non abbiamo ottenuto assolutamente nulla se non già gli shulker che già è tanta roba detto questo facciamo così faccio un breve taglio perché sennò il video viene uguale a quello di ieri e non ci abbiamo voglia minimamente faccio un brevissimo taglio e aia non nelle mie ginocchia faccio un brevissimo taglio e appena trovo l'altra un'altra fortezza signori sperando di trovarne una con la barca continuiamo la ripresa di questo video signori andiamo andiamo riparte l'esplorazione signori è da 20 minuti che io sto ripreso registrando nel senso che sto cercando una cazzarola di isola di fortezza e non trovo assolutamente niente proviamo sto continuando piano piano sempre di più aumentare i shank per vedere se riesco rimanendo fermo a beccar qualcosa di interessante ma che vedevo lì sono 20 minuti sono 20 minuti vediamo se con 22 shank riusciamo a vedere qualcosa però non vediamo assolutamente nulla il mio computer sta per morire però attenzione ce la fa ce la fa ce la fa spunterà qualcosa nel dal nulla cosmico spunterà qualcosa che a noi ci può interessare non vedo assolutamente forse la forse quella quella cosa la non vedo assolutamente niente signori non vedo niente di interessante né nel vicino né nel lontano e questa cosa non è per niente buona signori che vi devo dire costruiamo un altro ponte arrivo su questa zona di lì davanti a noi che magari sembra bella cicciosa e vediamo se se riusciamo a trovare qualcosa di interessante signori altro taglio e continuo continuo a costruire ponte sono diventato un ingegnere signori quanti ponti sto costruendo è impressionante signori signori ce l'abbiamo ce l'abbiamo non ci posso credere abbiamo trovato un'altra fortezza o come cazzo la si chiama dopo solo 40 minuti altri 40 minuti passati a cercare la finalmente l'abbiamo trovata signori calma e sangue freddo dobbiamo raggiungere quell'isola senza morire male io non mi sento più il dito che tiene premuto lo shift però va bene però va bene raggiungiamo quella cazzarola di isola signori svaliggiamo l'impossibile dovdiché dobbiamo semplicemente trovare il modo di tornare a casa ma quello penso che lo farò off camera signori senza registrare perché non so neanche di io dove sono non so minimamente dove cazzarola sono quindi poi quello penso che lo vedremo poi con con calma con campagna intanto raggiungiamo questa che è una mega fortezza io non ho visto bene se c'è una barca però intanto raggiungiamola raggiungiamola andiamo sulla terraferma che sarebbe già tantissima roba riuscire a raggiungere la terraferma riusciamo a raggiungere la terraferma ti prego mi fai raggiungere la terraferma vaffanculo io reggiro così e vedi come raggiungo subito la terraferma ok perfetto odio i punti fatti a zig zag ma dobbiamo far di necessità virtù signori ok non guardiamo enderman non c'è la barca signori non c'è la barca non ce la sono sono delusissimo non c'è la barca no c'è la barca signori la barca c'è la barca c'è la barca c'è la barcozza c'è la barcozza c'è la barcozza c'è allora acceleriamo velocissimamente entriamo subito dentro così evitiamo evitiamo che questi ci colpiscano ok dovremmo essere un punto protetto ok anche se loro ci colpiscono noi abbiamo il tetto che ci protegge lui si è sparaflesciato da qualche parte non ci interessa mangiamo perché qui la vedo la vedo male signori la vedo molto male con calma ok con calma noi siamo partiti subito a razzo perché l'obiettivo è quello di riuscire brutto bastardo che non sei altro dammi lo sugar box o sugar shell lì come 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 cazzo lo volete chiamarlo chiamatelo e no è per forza no mi doveva colpire per forza e non c'è niente da fare quanti ne abbiamo cinque gusci di schulker ok questa è quella grossa signori questa è la fortezza cicciosa la fortezza cicciosa signori dove cazzo ora è il mio gradino lì perfetto mi fai salire grazie cortesemente qualcuno mi colpisce no ora che mi serve non mi colpisce mai nessuno vaffan cucchio la veloce 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 conquistiamo la prima torre conquistiamo la prima torre mamma mia quanti cazzo la siete qua porca miseria vuoi morì vuoi morì e uno è fuori ok e mori male pure tu mannaggia a chi non te lo dice pure ok ce n'era un altro no mi ho recuperato tutto sì qua c'è più niente no perfetto prima torretta conquistata e non c'è assolutamente nulla andiamo dritti di qua da dove si raggiunge la barca non so niente non ho visto niente da dove raggiungiamo la barca però però con calma e sangue freddo la raggiungiamo signori mettiamo un pochetto di qua andiamo in questa direzione qua che mi sembra la zona più cicciosa maledetto siete trasportato perché c'è paura ok ora qui succede il delirio signori qui decisamente c'è il delirio questo è teletrasportato pure perfetto no maledetto mi colpite così riesco a salire grazie gentilissima non c'ho voglia di fare le scale mannaggia a voi qua c'è uno shulker quando è morto questo di qua tu vuoi morire pure grazie ti accontentiamo subito ora vediamo se riesco a scendere e poter muovere i miei piedi se mi fanno questa volontà questa grazia ok abbiamo recuperato un altro shulker buono così ora se mi colpite mi fate un grosso piacere così io vengo e vi ammazzo male no 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 stiamo salendo troppo stiamo salendo troppo voglio scendere porca miseria ok ok calma 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 dove dovevo andare io non mi ricordo più mannaggia riesco a lanciarmi là ok lanciami di sopra perfetto ok e tu sei morto tu consigliati morto no se te l'hai trasportato il bastardo l'importante è che il resto dove c'è il tetto l'importante è che il resto dove c'è il tetto così ok e questo l'abbiamo fatto fuori mangia perché siamo messi un attimino male dove siete al trasportato la sotto ma riesco a ammazzarti con l'arco si deve aprire però te devi da apri non si può aprire va bene brutto bastardo allora qui dentro non dovrebbe esserci niente ma noi purtroppo line da cest non la possiamo prendere perché non abbiamo non ci siamo portati piccone con sic touch no però questo dentro dovrebbe esserci qualcosa di interessante protezione 4 il nulla cosmico presente speravo un qualcosina di più però la sella ce la portiamo a casa la sella è sempre utile e carina allora quello shulker di là lo lasciamo perdere perché ha rotto semplicemente le scatole continuiamo a salire bravissimi bravi colpitemi 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 che mi piace questa cosa ok andiamo alla conquista di questa torre andiamo alla conquista di questa torre ho detto ok ok devo dire pure male alla barca e da quel lato completamente ok mi stanno colpire male aspettate che arrivo e ce n'è per tutti signori non vi preoccupate non vi preoccupate che ce n'è per tutti ok ok altra cassa per noi questa è una cassa interessante ok oro ci portiamo a casa degli stivaletti con protezione 4 passantibio ci portiamo pure a casa i semi di barbabietra sinceramente non abbiamo la barbabietra a casa quindi portati anche i semi di barbabietra fammi mangiare perché questi stanno ammazzando male ok a te ti posso fare fuori sì no ti sei teletrasportato sei solamente un mentecatto ok saliamo ora qui sopra non dovrebbe esserci altro secondo un'antica leggenda però a noi interessa andare verso la barca quindi facciamo una cosa così ok accaderemo male va bene ma abbiamo 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 gli stivaletti abbiamo 11 shulker signori 11 shulker significano poco decisamente poco dobbiamo trovarne un altro dobbiamo trovarne un altro e dove lo andiamo a prendere quest'altro ma io direi di scendere qui proprio gente che se non è lo troviamo qui qua sotto se non è qualcuno che ci rompe le scatole dai ok perfetto è lì il nostro dodicesimo è lì il nostro dodicesimo perfetto detto questo andiamo a regolare la barca signori andiamo sulla barca che sicuramente tra l'altro sulla barca ci saranno gli altri quindi poi andremo ancora di più a aumentare il nostro budget andiamo di qui ok andiamo di qui ai ai perfetto l'obiettivo è la barca l'obiettivo è la barca l'obiettivo è la barca quella barca di là signori secondo voi con l'ender perchè arrivo ci cosa stavamo per cosa stava per succedere signori cosa stava per succedere stavamo per cadere nel vuoto porca miseria se stavamo per cadere nel vuoto ok calma e sangue e freddo recuperiamo qualche altro blocchetto di mamma mia mamma mia ho fatto il passo più lungo della gamba signori ho fatto decisamente il passo più lungo della gamba ho fatto decisamente il passo più lungo della gamba mamma mia allora da qua dovrei riuscire a salire sulla barca una volta che poi siamo in alto se mi colpisce qualche shulker non mi lamento perchè comunque ci agevola la salita infatti sento già qualcosa che si sta aprendo zio mi colpisci grazie gentilissimo ok siamo sulla barca siamo sulla barca e siamo contenti di questo non siamo tanto contenti del fatto che stiamo volando come delle cose assurde mi tiri la grazie nascondiamoci un attimo no 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 mi tiri la grazie ok maledetti aia no pensavo fosse rotto li mannaggia riesce a cadere riesce a cadere zio perfetto grazie ok quantomeno siamo dentro lì ci sono le litre segnali abbiamo raggiunto le litre obiettivo raggiunto abbiamo l'elita davanti dietro di noi signori andiamo a uccidere gli shulker che sto qua dentro ragazzo lo è lo shulker che qua dentro ok era lì in mezzo non l'avevo visto ok perfetto e questo abbiamo fatto fuori sono quegli altri là fuori ma non ci interessa più tanto cassa numero 1 vediamo cosa c'è qui dentro dell'altro oro ottimo che ci portiamo a casa un'armatura con protezione dai proiettili e indistruttibilità 3 ci piace degli stianetti con atterraggio morbido morbido 4 e li prendiamo al posto di che cosa al posto della pietra lasciamo lì per ricordo qui abbiamo tanti diamanti signori mamma mia quanti diamanti un'altra sello che potremmo lasciare al posto di questi che non ci servono questi di qua li possiamo unire altro oro per noi che ci portiamo a casa altri diamanti un'armatura per cavallo che mi può stare bene e abbiamo un ender per di troppo che lasciaremo qua in mezzo signori perché dobbiamo prendere le nostre bellissime litra signori e abbiamo le litra obiettivo raggiunto tanta roba signori tanta roba ci rimane un'ultima cosa da fare ci rimane un'ultima cosa da fare qui che cosa c'è saluto istantanea 3 saluto istantanea 2 non ci interessano più di tanto allora dobbiamo far fuori quello shulker box di qua ok allora non dovrebbe esserci più nessuno che ci spara almeno spero anche se sento sparare ma non capisco da chi non capisco da chi e non ci interessa facciamo finta che non stiamo ascoltando niente da sopra non c'è nulla signori dobbiamo recuperare la testa del drago dobbiamo recuperare la testa del drago quindi calma sangue freddo ok mettiamo i blocchetti giusti sotto perché la testa del drago è l'altro obiettivo che non ci possiamo fare scappare minimamente blocchettini tutti sotto anche perché sotto abbiamo il voto più totale signori quindi attenzione col tasto shift perché ci manca solo che cadiamo adesso e sarebbe proprio da ridere cadere adesso sarebbe proprio una bella risata che non avrei proprio voglia di farmi ok non me la prende perché abbiamo l'inventario pieno cosa possiamo lasciare? lasciamo questo gradino che non serve a niente l'abbiamo presa? sì perfetto con molta tranquillità scendiamo torniamo sulla barca lì c'è un denderman che non ci interessa signori miei io salgo sull'albero alto della nostra nave detto questo signori attenzione attenzione ho sbagliato tasto attenzione segnali detto questo io indosso l'elitra indosso la testa del drago signori e noi per questo video ci fermiamo qui abbiamo raggiunto l'obiettivo della testa del ragno e dell'elitra non si vedono bene l'elitra ma non fa nulla siamo contenti dello stesso detto questo signori io vi ringrazio per questo video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i seguenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento signori tornerò a casa off camera e domani sistemeremo il tutto sistemeremo il tutto nell'episodio numero 99 signori ciao